Proseguono gli incontri promossi dal Comune di Lauria per concretizzare le azioni del tavolo di consultazione con commercianti e artigiani, tra le tante iniziative ideate e quelle legate alle festività natalizie. Quella di ieri sera è stata la terza riunione con i commercianti, il terzo tavolo che ha seguito ovviamente i tavoli anche con le associazioni. La priorità è sempre quella di poter ravvivare il paese nel periodo natalizio. Per quanto riguarda i commercianti esattamente era venuto fuori forte nella scorsa riunione quella di poter dotare il paese di luminarie che potrebbero avbellire il paese e quindi ricreare il calore natalizio che potrebbe invogliare sia i cittadini di Lauria e sia magari i cittadini che non sono di Lauria a venire il paese in quel periodo. Quindi ci stiamo adoperando per cercare di capire come poter insieme, concettando magari sia un contributo da parte del Comune e sia un contributo che potrebbe venire direttamente dai commercianti per far sì che questa proposta di avvellimento del paese tramite la luminarie potesse realizzarsi. In più il Comune ha sempre in mente il concorso di idee per quanto riguarda la vetrina più bella, il quartiere più bello anche se questo afferisce essenzialmente anche alle associazioni, però la vetrina più bella è un aspetto che va nel senso dei commercianti. In più un concorso di idee tra le scuole sul tema ecologico, sul tema del riciclo per stimolare la competizione, la sana competizione ovviamente che possa, come dire, con idee diverse, idee innovative, possa tutto andare nel verso della visibilità del paese. Ci sarà un nuovo incontro per quando è stato calendarizzato? Allora, praticamente ci siamo riaggiornati per martedì prossimo per capire perché i commercianti faranno un loro comitato oppure una loro organizzazione per contattare tutti gli esercenti e vedere la cifra che loro potrebbero mettere in capo. Il Comune farà la sua parte, rendendo le risorse, le poche risorse che purtroppo i tempi correnti mettano a disposizione delle amministrazioni per quanto riguarda appunto il Comune e poi si avrà un'idea previso di quando poter mettere a disposizione in totale per avvelire il paese. Contiamo entro fine mese di promulgare, come dicevo, il bando che sarà unico, complessivo.